bella benvenuti in questo nuovo video oggi ho deciso di registrare principalmente perché da qualche giorno siamo arrivati in mille iscritti quindi grazie a tutti e quindi se anche tu che stai guardando questo video non sei iscritto vai subito ad iscriverti o qua o qua perché il 75 per cento degli spettatori che guardano i miei video non sono iscritti e cioè molto male quindi sai cosa fare e niente quindi adesso vi lascio il video bella si è che per tavola cambiala noi abbiamo chiesto una cosa del genere ma c'è qualcuno faccia una scheda prima ultimo try sbaglio sicuramente ma lo faccio comunque mi riprendi riprendo io stai fermo change the spot let's go a few moments later oh yeah bella ciao 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 ciao